Vieni caro, sempre con le rose. Sono andata un po' lunga con Davide di Razzaro, ma tu che ami il talento, il fascino delle donne, avrai capito. Ciao Marco. Volevo darti questi fiori. Ma che carino. Uno è rosso per la passione che tu ispiri e uno è bianca per la trasparenza con cui lavori. Che bravo. È andata benissimo, ma io sono incantata. Ciao, buongiorno. Accomodati. Un uomo di un'eleganza. L'ultima volta che sei venuto ci hai raccontato praticamente un pezzo di dolce vita italiana. Come ben sai sei entrato con Gabriella Ferri perché la passione è la trasparenza. Sai che è la seconda volta che ci vediamo poi. Sì, però... Sei un po' psicologo? No, ma mi fai simpatia. Ah, meno male, quindi solo con me. Il regista è psicologo. Sai perché? Perché io in realtà sprovo sempre un grande imbarazzo sui complimenti. Perché penso sempre di non meritarli. Per cui per questo non riesco a tenere bene l'era. Capito? Mi agito. Che ricordo hai di Gabriella Ferri? Che è la canzone con la quale hai scelto di entrare. Gabriella noi la conoscemmo quando aprimmo il bagaglino, e cioè nel lontano 1965. Ci riunimmo alcuni giornalisti, eccetera. E trovammo una cantina a vicolo della Campanella nella vecchia Roma. E pensammo di fare due tempi di uno spettacolo nuovo che potesse in qualche maniera essere... E cercavamo dei cantanti un pochino fuori dall'ordinario. E chi fu? Toni Cucchiara, che era un cantante siciliano molto bravo, che tu l'hai conosciuto. Come no? Grande autore anche. E nell'Iffio Ramonti ci chiamarono e ci dissero noi abbiamo qui Gabriella Ferri, che è una cantante romana, che aveva fatto insieme a Luisa De Santis una piccola trasmissione con Mike Bongiungi. Tu dici che era una diva del popolo, cioè coniugava quest'elemento da diva... Infatti comunque il portamento, il viso, il carisma assoluto, no? Assoluto, certo. Però popolo? No, veniva dal popolo, aveva la forza della popolana vera e nello stesso tempo, come dote sua, aveva questa importanza, questa dignità, questo guardarti in maniera tale che ti seduceva. La guardiamo insieme. Tu sei una male femmina Che sto anche a farti chiamare L'agrame a un po' metà Ma non lo vedi sì quanto Quanto sei da poi Tu madre non ci sei spregata troppo Mi pari in ambulanza quando so Oh ma sotto la luna Non canti più Gli stornelli Le serenate Di gioventù Per progresso Da fatto grande Ma sta città Non è quella Do se viveva Tant'anni fa Anche tu così presente Così solo nella mia mente Tu che sempre mi amerai Tu che giuri e giuro anch'io Anche tu amore mio Così certo e così bello Anche tu diventerai Come un vecchio ritornello Che nessuno canta più Nella storia del bagaglino A un certo punto arriva Una telefonata di Cossiga Per Maglio Dovi Che lo imitava Perché poi nel frattempo Arriva la televisione Arriva la Rai Arriva Mediaset E ci ha parlato lui A chi hai risposto? No In realtà no Fumo richiesti Di mandare Maglio Dovi Che era un imitatore Formidabile di Cossiga Al Quirinale Perché Cossiga Non poteva venire Al Salone Margherita Ovviamente Presidente della Repubblica E allora però Voleva vedere Questo giovane attore Che lo imitava così bene E lo chiamò Al Quirinale Adesso continua tu Sì Era un presidente Che aveva una forte carica Proprio autoironica Quindi era il periodo Un uomo di grandissima intelligenza Che chiunque l'ha conosciuto Lo sa Io l'ho conosciuto Era numero uno Con una grande testa Con una grande energia Poi picconava Quindi c'era il periodo Anche poi c'era il CSM Così così Io ti voglio conoscerlo Perché questa voce Quanto mi ha studiato Mi deve dire Quanto mi ha studiato Io ho detto Presidente Io non avevo mai studiato Anche a scuola C'era una pigrizia Lo dice Pingitore Quindi io improvvisamente Quando io faccio un'imitazione Proprio per la simpatia E la forza del personaggio Mi ha fatto pure il tic Mi sono un po' così È vero Che quando si nervosiva Che c'era il tonno Palamara E lui giocava Questo che si chiama Come il tonno E faceva queste battute Quindi si prestava Che all'epoca era N.M. Palamara Esatto Probabilmente Esatto E allora faceva E poi mi disse Tu devi mettere Le cravate Caleffi Cioè mi diede Proprio le sue cravate E io recitai Con queste cravate Sue per pretendere Non male Come è stato Entrare al Quirinale Emozionante Sì Devo dire Che io nella mia vita Non è che Fortemente le emozioni Come quando anche Vai in uno studio È stato emozionante Importante Una bellissima esperienza Per il Corriere della Sera Scrisse due cossiga Al Quirinale Ma io mi vivo tutto sempre Non dico con il freno Però sempre con un equilibrio Non c'è così Cioè me la godo Ma dico sempre I piedi per terra Non so perché Per un fatto di educazione Di indole Non lo so Lui fa il caldo d'Inghilterra Pure molto bene Lui fa il caldo d'Inghilterra Puoi accennarlo per esempio Tipo jukebox oggi Tipo jukebox Perché adesso sono diventato re Oggi vorrebbe la musica Se vuoi fare No Pomp e z Pomp e z Non c'è una parola in inglese Non vi sforzate Non mi interessa fare il re Non mi è mai interessato fare il re Approfitto questa sera A me piacciono le donne E i cavalli Camilla le riassume Tutte e due È una battuta che noi facciamo Prima che diventasse re Ma adesso lo vediamo Peraltro Carlo Carlo ci ha salutato in diretta Quindi magari un giorno Se vuoi ti faccio anche il dialogo Fra Camilla e Carlo E qual è il dialogo fra Camilla? Carlo Non ti preoccupare No manteniamo il re Perché non mi guardo mai? Preferisco vivere Perché non mi ascolti? Non lo so Eppure sono tutto orecchio Della nascita Bene? Vediamo l'imitazione Una figura da disgraziato Proprio Una figura Perché vedi Che danno mio? Ecco io sono concorrente Sono concorrente Fossi con le batterie Andrea Valdi Sono concorrente Dopo tre minuti Pippo Toglio la spina Io resto senza corrente Non dico più niente Davanti all'agenda Che logicamente Penso che io sia un deficiente Cosa è successo? E io sto cercando Renato Pozzetto Ma io lo cerchi a trent'anni Nella nostra storia? Eh, dove lo cerco? Eh, posso chiamarlo in diretta? Se vuoi Renato! Eh Pozzetto se ci sei Eh, cosa che dici? Eh, sono qua Se mi hai chiamato Eccomi qua Me l'ho introddito E non c'è Cosa? Eh, non sento qualcosa Cosa? Qualcosa nell'aria Qualcosa nell'aria Veramente non sento niente Non lo so Come se fosse Un elicottero Va bene un po' di Amarcord Ehm, cosa Poi ovviamente Il bagaglino aveva tanta satira politica Una satira anche un po' accomodante Qualcuno diceva che era troppo accomodante Ehm Sì, non so La satira scomodante Come dovrebbe essere Perché La satira sai Risponde al criterio di Orazio Dire la verità Castigat ridendo mores No, sì Dire la verità ridendo Lui dice E allora Due sono gli elementi Dire la verità Non mentire E E ridere Saper far ridere Ora Prego No, no Vai, vai No, no Ora Io mi sono sempre attenuto un po' a questo criterio Cioè Non ho mai offeso nessuno Non ho mai Fatto degli insulti Perché non credo che sia una satira quella Però Siamo andati anche in profondità Abbiamo fatto la satire Di tanti uomini politici Di Di De Mita per esempio Con Mario Zamma Che era formidabile Di Craxi Con una I nostri Le nostre imitazioni Venivano affidate O a Sosia Veri e propri Come Come era quello di Craxi Che i carabinieri salutavano per strada Eccetera Cocchetto Mi ricordo che era un collega giornalista Cocchetto era un carissimo mio amico Aldo De Luca Il quale è giunesta al messaggero E un giorno Una ragazza Mi disse Sai ti ho visto ieri Non ti ho voluto disturbare Perché stavi con occhetto Invece io stavo con De Luca Allora Mi ha sceso la patina E gli ho fatto fare Però non poteva parlare Perché non era un attore Allora lo facevo entrare Con l'unità sotto il braccio E con un'aria molto seria Così E la gente gli parlava E lui non rispondeva E gli spettatori Immaginavano Chissà che cosa Che questo significasse Non significava niente Perché lui non poteva parlare Perché nelle tecniche televisive C'è questo ed altro E poi c'è ovviamente Quella storica Di Onesti Lionello E Andreotti Fu forse la prima volta Che era presente nel Consiglio Ora la vediamo Che Arda Nova Mi prendo in giro da solo Visto che non ci riescono gli altri Che ci provino è vero Ma però guardi Prendersi un po' in giro da solo Fa molto bene Per non montarsi la testa Per non darsi delle arie E per non credersi veramente Un uomo superiore Io mi diverto tanto A non credermi a un uomo superiore Perché non lo sono Fra parentesi Quindi Ma Però Se mi guardo in giro Non ne vedo tanto Non parliamo dei segreti Del mio successo Sarebbe meglio parlare Del successo Dei miei segreti Ma veda Una cosa che non mi piace Quando uno dice Che uno ha gli scheletri Degli armadio Insomma Io per la verità Ho avuto molte vocazioni Molte aspirazioni Ce l'ho ancora Ma di fare l'impresario Di bombe furbi Proprio non ce l'ho Va bene L'autoironia di Andreotti E l'ironia di Andreotti È leggendaria Su che cosa giocavate Come fu quell'incontro Reste un grandissimo peraltro No Noi avevamo una signora Che aveva uno strano cappellino Che si vede ogni tanto Che ci rimodiava Non ho mai capito come Dei deputati Senatori Ministri Eccetera Che venivano lì Assistevano allo spettacolo E poi dovevano dimostrare Di essere uomini di spirito Alcuni provarono a raccontare Delle barzellette Che noi stessi Gli avevamo raccontato Con un esito Terrificante Altri invece Erano Normalmente Erano autori Diciamo Erano propriamente Spiritosi Come era Andreotti Insomma Era un nuovo intelligente E Oreste è un grandissimo attore L'abbiamo ricordato Qui con la figlia Perché Doppiatore La voce di Woody Allen Oreste Era una bellissima persona Oreste era Una splendida persona Con un talento Enorme Giorgio Albertazzi Diceva che lui Era il miglior attore Italiano Tu l'hai conosciuta Io ho avuto L'onore Il piacerio Tutto quello che so fare Se so fare qualcosa Lo devo a questo regista Che è stato anche psicologo Quindi dal punto di vista Anche caratteriale Ti forgiano E Oreste Lionello E Oreste Lionello Mi ha insegnato tutto Anche mi ha rimproverato Con questa voce Quando incontrò mio padre Gli disse Il principio della libertà E allora lui era così Lui amava questa sintesi E tutte le persone Che mi coprì Io non ho fatto Uno studio particolare È una coincidenza Quindi questa grande ammirazione Il tempo che passavo Anche con Oreste Anche dopo Oltre Quindi è proprio Ho avuto dei maestri La fortuna Credo che il talento Si è affrontato anche Si è affrontato il discorso Qui ci sono dei talenti È la cosa più importante Della vita Di incontri Sì Perché tu impari Tutto quello che sei Dipende dalle persone Che incontri Nella vita Non so quale grande Lo diceva E non solo Sul palcoscenico E io ho avuto La fortuna Di incontrare Questi affetti stabili Tra cui Cagnoletta Dai Quiz Sono in ritardo Francesco Vincitore E c'era anche Maglio Dovi Però io oggi Volevo anche Ribadire un attimo Serena Naturalmente Qui chi è il vero Titolare dei quiz Perché guarda un po' Marco cos'ha Dietro la maglietta Marco Girati un secondo Cagnoletta Scusi Perché Qui devi sapere Perché non sai Vi dillo al maestro Vincitore Maestro Quando io non ci sono Qui viene un po' Improvvisato Un quiz Con un tablet Mi sono giunte voci Allora io voglio ribadire Chi è il titolare Stiamo facendo i gadget Abbiamo il furgone I merchandise Luigi Marco Sedetevi con me Perché devo lanciare la domanda In chiusura Di stagione Me li dicono Gli affetti stabili È finita Scusami Ancora la tutto Io ho i miei due grandi Unici collaboratori Senza quali Non potrei fare il quiz Fanno solo questo Portano Esatto E poi vanno a dormire È già qualcosa Però E te che fai Io che faccio Almeno una cosa pratica Scriviamoci Che siamo di tardi Lanciamo la domanda Dediciamo il programma Dediciamo il quiz A biberon Che è stato uno Di grandi vostri successi La parola di oggi Quindi è biberon Andiamo nell'antica Grecia Dove il biberon Aveva molto spesso Anche un'altra funzione Quale Era anche Allo stesso tempo Giocattolo Mattarello Arma di difesa O unità di misura Pubblicità Ma rispondono loro? Eh 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 Maginissimo Velocissima risposta del quiz Rapidissima Lo chiediamo secco Alla mamma Bionda Che è alla mia destra Laura Freddi Dovresti saperlo Nell'antica Grecia Sicuramente non c'eri Però il biberon c'era E aveva anche Un'altra funzione Giocattolo Mattarello Arma di difesa O unità di misura Ti do anche un aiuto Si chiamava Guttus Tintinabula Vai vai Allora Adesso tutto Mi torna in mente Avendo avuto appunto Avendo una bimba A cinque anni Quindi il biberon Non lo ricordo tanto bene Però Lei ci giocava Io non so Nell'era moderna È così Ci si gioca col biberon Non so Gli antichi greci Cosa facessero I bambini sono gli stessi Da sempre Non cambiano Bravissima Era un giocattolo Era praticamente Un biberon In terracotta All'interno Aveva dei dischetti Che quando il latte Veniva Succato dal bambino Restavano all'interno E il bambino Lo agitava Lo usava come sonaglio Quindi un biberon Giocato Cuore di mamma Indominato Eccoci Brava Chi sanno che Pingitore Ha diretto Fabrizi Ha diciamo È stato autore Anche regista Forse anche Di Panariello Che vediamo insieme Adesso Stasera mi butto Ecco quindi Un tamburo Battente Per il quarto Concorrente Eccolo qua Dicci come ti chiami Mi chiamo Giorgio Panariello Signori Corrado Buonasera Corrado Venga Non si preoccupi Gli fanno l'applauso Non si preoccupi Venga Corrado E allora signori Signori Buonasera A tutti Grazie Grazie Troppo buoni E troppo E troppo buoni E troppo gentili Ma adesso Non andate via Perché c'è la pubblicità Pam 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 Vecchio Diranno che sei vecchio Con tutta quella Forza che c'è in te Vince questo campionato Eh Facendo le imitazioni Facendo le imitazioni Cioè era un campionato Tra gli imitatori E lui vinse Questa era la seconda edizione E lui vinse questa seconda edizione Senti e fammi sognare Fabrizi invece Aldo Fabrizi Sì E con Aldo Fabrizi Gli chiese di fare una parte In un film Nerone Che era un po' Un film nuovo Per quello che Che era la figura di Nerone E lui doveva fare Il generale Galba Che poi è successo a Nerone Io andai a casa sua Lui mi ricevette Nella cucina Lui viveva In una enorme cucina Dove c'era da una parte I fornelli E da una parte Un tavolo Macchina da scrivere Telefono Con una delle prime segreterie In cui diceva L'utente è assente Dica chi siete E in questa maniera Selezionava Quello a cui voleva rispondere E cominciamo a parlare Io gli lessi il copione Lui mi fece alcune osservazioni Poi da lì Nacque una certa Amicizia Proprio Lui fece Questa parte Poi si interessava A quello che io facevo Mi chiamava a casa Parlava anche con mia madre Ma fu una cosa Molto 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 Commovente Ma è vero che tornerà Il bagaglino in Rai Io leggo delle cose Io vorrei fare il bagaglione E che cosa cambia? Cambia tutto Nel senso che Mettete pure ballerini maschi belli Così siamo felici anche noi ragazzi Ma senz'altro cara Se tu me ne vuoi indicare qualcuno Io lo prendo in considerazione Ma Scalun Sarà pronto? Scalun si propone Sì per il bagaglino sarò pronto A settembre Ci siamo Per il bagaglione Adesso vediamo un po' Dipende un po' dalle gerarchie della Rai Se vogliono accogliere questa mia proposta Di uno spettacolo Che riecheggi un po' quello che abbiamo fatto Che dia una informativa Sotto la specie del divertimento Degli anni che sono passati Di Tangentopoli eccetera E che abbia invece anche una parte Attuale Contemporanea In cui cercheremo di fare Le scarpe un pochino a tutti E come si dice? In bocca al lupo no? Sempre in bocca al lupo Crepi lupo E come si risponde? Crepi o viva? Crepi Possibile per 3.000 anni si è detto Crepi E che adesso abbiamo scoperto Che il lupo prende il bambino Il cucciolo in bocca Il cucciolo in bocca Io risponderò sempre Crepi il lupo Vabbè E Scalu si è giocato Quanti anni ha fatto? Quanti anni ha fatto? Quanti anni ho io? No, io è un grande Roma Roma